Amici di Canale 88, ben ritrovati da Casteldebole, intervista a Sam Bocchema, questa è la pronuncia giusta. Ciao Sam, grazie, come stai? Bene, bene, grazie, molto bene. Oggi una bella giornata di sole e siamo qui per parlare dell'ottimo momento del Bologna. Però ripartiamo dalla vittoria di Roma, insomma, avete dato la sensazione di essere una grande squadra e di saper superare anche le difficoltà della partita. Che vittoria, che sensazioni sono state quelle dell'Olimpico? Sì, abbiamo una squadra bellissima, con attitudine giusta. Sì, quando vincere l'Olimpico è molto speciale, perché ho sentito l'ultima vittoria, era 12 anni fa. Sì, nel 2012. Sì, esatto. Quindi, sì, è molto speciale. Sì, è anche tre punti importantissimi. Tre punti importantissimi. La quarta vittoria consecutiva. Al Bologna non capitava di vincere quattro partite consecutive in Serie A da quasi 60 anni. Tantissimo tempo. È il vostro miglior momento in stagione, secondo te, dall'inizio di questo campionato? Sì e no. Sì, perché adesso abbiamo giocato 25 partite, quindi solo 13 partite per giocare. Ma no, non solo questo momento, perché è una stagione molto lunga. Sì. Sì, non solo questo momento, no. Dopo la sconfitta di Cagliari è arrivato quel bel pareggio a San Siro con il Milan e poi queste quattro vittorie. Senti che vi è servita un po' quella pausa, quelle due settimane per lavorare qui, ritrovare anche gli infortunati e forse ritrovare anche un po' di condizione. Scusa. Sì, sì. In quella partita dopo Cagliari, quella sconfitta, due settimane, avete lavorato due settimane qui senza partite. Sì. Vi sono servite, secondo te, è stato ancora più utile lavorare quelle due settimane senza partita per riprendere un po' quella tranquillità che forse vi serviva anche quelle due settimane di lavoro sul campo? Sì, ma secondo me è anche meglio quando abbiamo partite ogni settimana, perché il ritmo quando abbiamo partite ogni settimana è più facile per noi, perché è una regolarità, una routine. Sì, esatto. Quindi questo mi piace di più, però quando abbiamo due settimane non libero, ma non abbiamo una partita è anche molto tempo per preparare bene per la prossima partita, sì. Quel ciclo è iniziato da San Siro, quel bel 2-2 con il Milan. La volta precedente a San Siro hai segnato il tuo primo gol con il Bologna in un supplementare, poi avete vinto quella partita. Che sensazione è stata, il primo gol con il Bologna? Sono molto, molto felice perché finalmente ho fatto il mio primo gol in Serie A e sì, è un momento speciale nel nostro stadio, nello nostro stadio. E sì, è molto speciale, sono orgoglioso per questo gol, sì. Poi alla fine delle partite, delle vittorie, spesso ci sei te, Michelle e Dan che vi abbracciate, urlate e cercate Matteo per fare il video. Che cosa c'è dietro? Da cosa arriva questo scherzo, questa gag? No, Michelle ha iniziato con questo scherzo e ho visto una volta sul mio telefono e ho detto a Michelle, Michelle perché fai questo sempre dopo una vittoria? E lui ha detto, eh no, non lo so, è solo un scherzo e quindi la prossima volta, la prossima partita dopo abbiamo vinto e dopo io sono venuto a, sono andato a Michelle e quindi oggi insieme e lui ha detto sì, va bene, 3, 2, 1, 6 e quindi dopo Dan, anche Dan, adesso anche Joshua. Sì, anche Joshua perché Dan ha dato dentro, quindi Dan, Joshua, non lo so, è la prossima volta, dai. Tutti, tutti, ma come avete vissuto quei momenti, festeggiare con i vostri tifosi, è un calore incredibile anche, no? Che sensazioni hai, no? Nell'avvicinamento con la piazza, con questo pubblico, senti proprio il calore del tifo rosso-blu? Eh sì, siamo molto, come si dice? Anche in inglese se vuole. Sì, no, è grateful, come si dice? Grati, grati, grati per i nostri tifosi perché anche dopo la partita quando siamo arrivati a questo training centro, tanti tifosi hanno aspettato noi e sì, tutti insieme per il nostro obiettivo e sì, è un momento molto speciale adesso, sì. Qualche settimana fa hai detto che il miglior attaccante della Serie A tu lo marchi tutti i giorni in allenamento, ma noi ogni partita vediamo sempre qualche caratteristica di Joshua, di Zirk Zee, sempre più bella e sempre diversa. Secondo te qual è il suo punto di forza? Qual è veramente quella caratteristica che dici, cavolo, è unico perché ha quello? Di Joshua? Lui è molto creativo, quindi quando faccio difendere lui, difendi su di lui? Sì, esatto, e non è sempre diverso da quello che lui fa, quindi lui è molto impredibile, imprevedibile, lui è molto imprevedibile, quindi questo è anche lui, è molto forte, è veloce anche, è molto tecnico, quindi lui ha tutte le cose per diventare un bel giocatore, sì. In partitella chi vince il duello? Lo vinci tu, vince lui, lo tieni? E durante l'allenamento, eh, chiede a Joshua, chiede a Joshua, no, secondo me, qualche volta, io qualche volta a Joshua, quindi bel incontrasto sempre, sì. Ti chiedo un po' di tattica, spesso con Tiago Motta uscite a tre con un difensore che si aggiunge alla linea di centrocampo, di solito c'è Remo, Froiler, e quindi siete tre più due, può essere che ci sei tu, può essere che c'è o Kala o John, dipendentemente da chi gioca, o anche un terzino, però siete molto liberi, perché Tiago dice sempre che avete questa libertà di prendere voi le scelte dentro il campo, ma quando sali tu, quando sali sulla linea dei centrocampisti, lo senti, c'è una precisa circostanza che ti porta a fare questo movimento, come, da cosa nasce, come vi muovete, come ti senti anche tu in questo modo di giocare, di costruire? No, giusto, questo è il nostro gioco, se vado in centrocampo, ah, proprio Josh, sempre Josh, guarda i cappelli di Josh, no, 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 Quando vado in centrocampo è all'inizio, quando sono arrivato, è più, no, non un po', è diverso per me, però adesso è, lo so che mister vuole, Sì, anche Usamai, la Zuzi, tutti gli olandesi, dai, ma, no, lo so che mister vuole, quindi guardo, guardo sempre Sulla mia spalla, all'indietro, sì, all'indietro, e quindi adesso sto bene anche in centrocampo, sì, mi piace questa gioca. Come in quell'azione contro la Roma, in cui avete, hai servito Froiler, no, lì sei stato centrocampista, giunto in quell'azione, ma è stato forse quello, quel gol bellissimo, poi Remo per Dan e dentro Nico ha segnato il gol, è stato quello forse proprio il calcio di Tiago, no, quello che vuole il mister da voi, come cercano di farvi spiegare il tipo di calcio che vuole in attacco col pallone? Sì, 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 questo è, secondo me, anche nostra forza, ehm, dai Josh, la nostra forza è, ehm, eh, sono distratto. È gut, è gut, I'm doing really well in Italia, eh, wait, wait, no, but, eh, scusa, sì, questa è nostra gioca, è, secondo me, anche nostra forza, perché abbiamo, ehm, i giocatori che, ehm, vogliono giocare così, ehm, quindi questa è nostra forza, è, eh, dobbiamo mantenere questa, questa gioca, è anche, ehm, improve, come si dice? Migliorare, migliorare, esatto, migliorare questa gioca, perché anche contro la Lazio, specialmente il primo tempo, ehm, c'è, ci sono tanti errori, quindi, anche, tutti, tutti i giorni, eh, dobbiamo migliorare. In cosa senti, personalmente tu, di poter migliorare anche in campo, con la squadra, in che cosa, tu? Per me, ehm, sì, anche questa, questa gioca, perché, ehm, è ancora nuova per me, ma anche, ehm, sì, ehm, migliorare, ehm, ehm, come si dice? In inglese, ehm, sì, no, I, 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 I still need to, like, improve, ehm, I know I can pass really well, like, uh, that's one of my strengths, but I need to make it even perfect and better, better, so, I need to improve my, my strengths, because I think then I can, um, I can, uh, help the team with, and I have an, like, added value for the, for the team, quindi, my past, but also my defensive part against Joshua every day, so, sì, questo. Aiuta, certamente, eh, scusa per inglese. No, 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 ma va benissimo, va benissimo, stai andando fortissimo in italiano, stai andando fortissimo. Eh, questa è la mia prima, prima volta in italiano, sì. Però stai andando forte, eh, va bene l'italiano, migliora. È un, eh, un upgrade. Esatto, sì, 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 dai. È un upgrade, è un upgrade. E, sei però, difensivamente, un dei giocatori che, alla fine, è una certezza di questa squadra, perché dopo, eh, Ferguson, Skorupski, come minuti giocati in stagione ci sei tu. Ti senti, anche se poi, alla fine, sei arrivato da luglio, una certezza, un pilastro di questa squadra? Eh, non so, ma, sì, quando, eh, io voglio sempre, eh, dare il massimo, 100%, e, secondo me, mister, mister, eh, aspetta, eh, Ersk, chiede, chiede questo, eh, chiede a tutti, tutti i giocatori, tutti i giorni, e, secondo me, voglio, voglio dare tutti i giorni 100%, e, sì, lui, lui piace, ma, eh, non so se io sono una certezza, io solo voglio dare 100% per la squadra, e, quindi, eh, dai, sì, continuiamo così? Sì, continuiamo così, un occhio alla classifica ogni tanto, lo dai, lo lanci, come ti vedi così, un po' quarto in classifica, cosa ne pensi? Partita dopo partita, ovviamente. Sì, esatto, sì, no, questo è più importante, dopo, partita dopo la partita, eh, ma, sì, quando, quando, eh, siamo, eh, quattro posti, eh, cinque posti, eh, più, più bello per vedere questo, questo, sì. L'ultima, il momento più bello fin qui, eh, con la maglia del Bologna, se hai un ricordo, una cosa in specifico, che dici, ok, quello fin qui è stato il momento proprio, wow, Bologna, sono felice di essere a Bologna, se c'è un momento in particolare in questi mesi che sei qui? In questi mesi? Sì, dall'inizio fino ad oggi. Eh, per me, per me o per, per la squadra? Anche per te, per te. Eh, per me, eh, ovviamente la vittoria a San Siro per la Coppa d'Italia, perché ho fatto il mio primo gol, ma anche in un stadio incredibile, è una vittoria fantastica, quindi questa partita, sì, questo è molto speciale per me, ma anche per la squadra. Adesso dobbiamo continuare, perché venerdì è un, la prossima partita, cioè la prossima partita, quindi, dai. Dai, forza, in bocca al lupo. Ciao Sam, grazie. Grazie, grazie.